Bentornati sul canale giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come A uomini e donne i colpi di scena e le emozioni non mancano proprio mai Nella scorsa puntata abbiamo assistito ad un bellissimo gesto che ha emozionato i presenti in studio, ma anche i telespettatori .Uomini e donne, Maria De Filippi. Giovanna e Luciano.Maria De Filippi, oltre ad essere una delle conduttrici più amate e seguite di sempre, è una donna molto generosa Due noti volti del trono over di uomini e donne, Giovanna e Luciano hanno ricevuto un bellissimo e costosissimo regalo Nessuno si sarebbe mai aspettato un gesto così pezioso, scopriamo cosa è accaduto Web, il meraviglioso regalo a Giovanna e Luciano.Nelle puntate precedenti, la bionda opinionista, Tina Cipollari ha approfittato della grande visibilità di uomini e donne per lanciare un appello molto importante Al centro dello studio erano presenti due volti molto amati del trono over, stiamo parlando di Luciano e Giovanna Chi segue la trasmissione, sa che la conduttrice, più volte ha avuto difficoltà a parlare con i due anziani a causa dei problemi di udito che hanno Anche tra di loro non si capiscono, proprio per questo, Luciano, ha prenotato un appuntamento per un apparecchio acustico Punto Maria De Filippi, sa che il costo di questo genere di interventi è molto elevato, infatti, ha invitato Tina a fare un appello ad Amplifon per aiutare Luciano e Giovanna L'opinionista, rivolgendosi alla nota azienda, ha detto Vi prego di regalare due apparecchie Giovanna e Luciano Una richiesta che ha scatenato un grande applauso. Finalmente, dopo pochi giorni è arrivata una bellissima notizia per Giovanna e Luciano del trono over Di uomini e donne. È stata proprio la conduttrice ad annunciarla, scopriamo di più Uomini e donne, Giovanna e Luciano.web, l'inaspettato annuncio Dopo pochi giorni dall'appello di Tina Cipollari, è arrivata una bellissima notizia per Luciano e Giovanna Maria De Filippi ha annunciato con grande entusiasmo che presto arriverà il regalo tanto atteso Hanno chiamato e si sono resi disponibili a regalare sia a te che a Luciano gli apparecchi acustici Hanno provveduto attraverso la redazione ad individuare un centro Amplifon qua vicino Sarà proprio la redazione ad accompagnarli I due opinionisti, Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno ringraziato pubblicamente la famosa azienda italiana che si occupa dell'applicazione e commercializzazione di apparecchi acustici Una bellissima notizia che ha strappato gli applausi del pubblico in studio Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video